Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere il circuito di potenza e il circuito di pilotaggio con la simulazione di un motore monofase. Vediamo nella frattispecie, a sinistra il circuito di potenza dove abbiamo linea neutro e il cavo di protezione, quindi la terra. Abbiamo il nostro sezionatore con il fusibile sulla parte della fase, qua abbiamo il nostro magneto termico, il nostro teleruttore sia fase che neutro, il nostro motore monofase e poi qua abbiamo il circuito di pilotaggio. Quindi il circuito di pilotaggio con anche qua i due contatti e poi pulsante di marcia con l'autoritenuta in parallelo, stop, il fungo d'emergenza. Qua il contatto ausiliario del rele termico normalmente aperto, quindi legato a questo. Quindi quando si disattiva il magneto termico si interrompe la linea, che è poi il ramo di marcia arresto generico. Qua abbiamo la bobina di contatto del marcia arresto, che poi viene riproposta come contatto qua su una lampada di segnalazione verde per la marcia, rossa per l'arresto, e gialla per la segnalazione dell'entrata, dello scatto della parte del magneto termico, sia per un discorso di parte magnetica di cortocircuito che di una parte termica dovuta a una sovracorrente. Andiamo a vedere la simulazione, ricordiamo che il circuito di pilotaggio può essere a 2,30 ma può essere tranquillamente anche a 24 volt in alternata per maggiore protezione e avverrà a che fare ovviamente con tensioni e quindi anche correnti ridotte. Quindi andiamo a chiudere il nostro sezionatore, qua che è collegato, vedete che qui mi dice che il motore è fermo e aperto il magneto termico, andiamo ad armare il nostro magneto termico, quindi si spegne la lampada di segnalazione, mettiamo il discorso della marcia, abbiamo l'eccitazione della bobina, l'auto ritenuta e la segnalazione della lampada verde con il discorso del motore in movimento. Poi posso stoppare con il pulsante di stop e riprendere la marcia, quindi abbiamo stop, start e stop, oppure col discorso fungo di emergenza, in un stesso identico modo, quindi poi posso riprendere la mia marcia. Nel caso in cui scatti magneto termico, questo mi fa ovviamente fermare il tutto e accendere la lampada di segnalazione gialla. Bene, credo di essermi ricordata tutto quello che volevo dirvi, mi raccomando fatemi sapere se avete piacere, se vi è stato utile, se volete qualche altro circuito di questo tipo, io man mano mi sto regolando a seconda un pochino di quelle che sono le vostre richieste, vi ricordo se avete piacere il discorso di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche e noi ci vediamo domani.